Gabriele Del Bono è il nuovo presidente della Proloco di Ardesio. Perché hai deciso di assumerti questo impegno? Allora, diciamo che Simor Bonetti circa un annetto fa mi ha chiamato, ci siamo visti e mi ha chiesto se volevo cercare di creare un gruppo che potesse portare avanti la Proloco, una Proloco di giovani, perché il Paese aveva bisogno di un cambio generazionale. Diciamo che è dentro un po' tutti gli ardeseani questa voglia di mettersi in gioco e fare qualcosa per il proprio Paese. Anche se la mia paura più grande era di non trovare persone, adesso il nostro direttivo conta 24 persone, di cui soltanto 4 che sono degli ex, quindi che derivano dal vecchio direttivo. Quindi 20 nuovi giovani ragazzi con età massima di 26 anni che vogliono dedicare un po' del loro tempo per il loro Paese. Quest'anno quali saranno soprattutto gli eventi che vi vedranno impegnati? Allora, cito magari i nostri due nuovi eventi rispetto all'anno 2019, che sono la Camparata, a cui teniamo particolarmente che è la vera novità che andiamo a introdurre come programma di Proloco e sarà un lungo aperitivo, un brandizzato Campari Soda. Mentre per quanto riguarda l'altro evento che andiamo a introdurre rispetto al 2019, Ardesio si blocca, una manifestazione che interessa i tanti appassionati sul territorio per quanto riguarda il settore dell'arrampicata. È un settore che nei nostri paesi comunque viene vissuto e noi puntiamo nei prossimi anni di farla diventare magari anche un punto di riferimento nel suo settore, diciamo. Restano poi gli altri eventi, chiamiamoli, storici della Proloco. Allora, un impegno che ci siamo tenuti era quello di mantenere principalmente i tre eventi che caratterizzano Ardesio, che sono sicuramente Ardesio di Vino, la Scassata del Generù e la Fiera delle Capre. Quali le sensazioni stasera a passare il testimone dopo 12 anni? È dura, è dura perché 12 anni sono tanti anni, fanno parte della propria vita e è davvero una serata un po' particolare. Devo dire che sono mesi che ormai è nell'aria e si è annunciata questo passaggio di testimone che non riguarda solo il sottoscritto ma riguarda davvero un cambio generazionale per il paese di Ardesio. E questa è comunque, a mio vedere, la cosa più importante perché 24 ragazzi dai 18 ai 26 anni decidono di prendere in mano una Proloco e questo gli fa onore e vuol dire che Ardesio è davvero un paese costruito, costituito ed edificato sul volontariato. Fino a quando questa linfa sarà vitale e ci sarà questo stimolo a mettersi in gioco credo che Ardesio potrà davvero portare avanti qualcosa di importante anche nel futuro. Questi giovani stanno già dimostrando di crederci, le parole di Gabriele stasera sono fantastiche e io lo ringrazio davvero personalmente perché è ormai un annetto che ci sentiamo, ci confrontiamo e aver accettato l'idea, la sfida di prendere in mano la Proloco gli va dato atto. È un onere abbastanza delicato ma credo che sia un onore rappresentare il proprio paese con questi grandissimi eventi che continuerà a portare avanti insieme al suo gruppo.